La prevenzione delle truffe e degli altri delitti ai danni delle persone anziane. E' questo il tema dell'incontro che ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Badalucco, comandata dal maresciallo capo e spedito Longobardi, hanno avuto con gli anziani presso la chiesa della Madonna della Misericordia di Badalucco. Truffe, furti e altre tipologie di reato, specialmente nei confronti di persone sole e di una certa età, sono purtroppo all'ordine del giorno. I carabinieri hanno dato indicazioni su come prevenire i comportamenti di malintenzionati e su come non cadere in raggiri, prendendo le necessarie precauzioni e adottando la prevenzione come miglior difesa. Sono state illustrate le più diffuse modalità di truffa, dal falso medico dell'Inps al finto appartenente delle forze di polizia, passando per le allettanti proposte di investimento di denaro ad interessi vantaggiosi suggerite da finti avvocati e sedicenti mediatori bancari. Grazie. 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 Grazie.